24 settembre buongiorno e buona domenica a tutti voi ben trovati con la nostra rassegna stampa. In apertura parliamo di sanità Abruzzo e Molise a confronto nei prossimi giorni, nuovo vertice tra l'assessora Nicoletta Veri e la struttura commissariale molisana per discutere di accordi di confine. Ce ne parla Valentina Ciarlante. Abbattere le liste d'attesa e compensare le mancanze di una parte e dell'altra, questo l'obiettivo della sinergia che si sta costruendo tra Abruzzo e Molise in materia di sanità. Nelle scorse ore l'assessora regionale Nicoletta Veri insieme alla sua struttura ha incontrato a Pescara il commissario Marco Bonamico, il vice Ulisse Di Giacomo e la direttrice generale per la salute della regione Molise Lolita Gallo. All'ordine del giorno la rete per l'emergenza urgenza e il rinnovo della convenzione per l'elissoccorso. Tema questo che sarà oggetto di un prossimo vertice, appuntamento che ci sarà a breve come ha confermato la stessa assessora Veri. La finalità di questo incontro è quella prevalentemente di dare la possibilità di ridurre le liste d'attesa e di dare delle risposte alla purtroppo mancanza dei medici, di alcuni specialisti di cui noi cominciamo ad averne bisogno. Per cui dovremmo unire queste forze in modo di avere un circuito non solo per quanto riguarda la rete dell'emergenza urgenza, ma anche per dare delle risposte a delle prestazioni specialistiche finalizzate e anche a degli interventi finalizzati. Adesso stileremo quello che è un'ipotesi di progetto, di programma, lo andiamo a condividere con coloro che hanno competenza, ma soprattutto anche a livello ministeriale. Per fare questo ci incontreremo più volte e porteremo avanti questo progetto. Ancora sanità in pochi giorni, il DG Asrem sceglierà i nuovi vertici. Lo ha detto il presidente della regione Molise, Francesco Roberti. In lizza per le cariche di direttore sanitario e amministrativo, ex volti noti, ma anche diversi forestieri. Sentiamo Pierluigi Boragini. Nell'elenco ci sono diversi ex volti noti e alcuni forestieri. Sono 26 i candidati per ricoprire i ruoli di direttore sanitario e amministrativo dell'Asrem, 8 aspiranti alla carica di direttore sanitario, 18 al vertice amministrativo dell'azienda. Il primo vaglio, basato esclusivamente sulla verifica dei requisiti richiesti dal bando, si è concluso con la pubblicazione dei nomi ammessi da parte del direttore del terzo dipartimento, della regione Claudio Iocca. Ora tocca la commissione di valutazione nominata dalla Giunta Roberti, composta dai prof di Pace e Guerra, rispettivamente a capo dei dipartimenti giuridico e medico di Unimol, e dalla responsabile dell'avvocatura regionale Jacovelli, procedere con la valutazione dei titoli e stilare l'elenco degli idonei da cui potrà attingere il neo DG Giovanni Di Santo. Fa parte dell'organigramma necessario per poter ripartire, dopo il direttore generale ci sarà sia quello amministrativo che quello sanitario che questa settimana saranno scelti dal direttore generale. In lizza per la successione di Evelina Gollo ci sono, tra gli altri, il primario della medicina nucleare del Cardarelli Bruno Carabellese, la sua collega che dirige la cardiologia Angela Rita Colavita, l'otorino termolese Egno De Felice. Tra i papabili per il ruolo di direttore amministrativo, solo per fare qualche nome, in totale ne sono 20, ci sono Alessandro Altopiedi, Angela Uffiero, Riccardo Baci, Giovanna Buono, Antonio Forciniti, Lolita Gallo, Luscente, Antonio Lastoria e Alberto Manfredi Selvaggi. E procediamo ora con la lettura dei quotidiani oggi in Edicola, vediamo insieme Primo Piano Molise. Addio a Re Giorgio, sinistra smemorata, oggi e domani la Camera ardente al Senato, martedì il rito laico a Montecitorio, primo dirigente comunista a salire al colle, il presidente emerito aveva 98 anni. Da Roberti a Patriciello, solo il centrodestra ha espresso cordoglio per la scomparsa di Napolitano e in segno di lutto Fratelli d'Italia posticipa domenica prossima la convention che era prevista proprio questa mattina. Appalata l'ultimo straziante viaggio di Gianluca, ricordiamo l'operaio morto dopo l'esplosione in una fabbrica a Casalbordino, si parla anche di Unilever, Unilever via dal Molise perché la regione non si è fatta valere. Già sindaca di Pozzili, la consigliera Stefania Passarelli punta il dito contro l'amministrazione Toma, ora lavoriamo per limitare i danni, dice. Venafro, cambio della guardia al convento, vescovo all'opera per sostituire i frati Cappuccini. Dentro la notizia andiamo a Larino, 4.000 euro a Puchetti, 2.000 al Vice e 1.800 agli assessori, aumento dei compensi è bufera. Isernia, altro grande evento all'auditorium il 2 novembre prossimo, Caposela in concerto. Nel taglio basso, le penne nere a Campobasso, la pioggia non ferma gli alpini, omaggio ai caduti della fanfara, cala il sipario sulla tre giorni del raduno interregionale. Il punto di oggi è a firma Gabriele Salemme, il nodo gordiano della sanità molisana. E poi nei richiami sotto a testata lo sport, Serie LD, lupi con 230 tifosi ad Ascoli, Termoli, Coltivoli, Vasto Girardi a Fossombrone. Eccellenza, Isernia, 5 a 0 alla Cliternina, il sesto cade in casa, Tris del Ripalimosani. E poi concludiamo con una curiosità, un ritorno in campo speciale, Melloni, portiere dei Donchis a 73 anni. Lasciamo primo piano molise, spostiamoci ora in Abruzzo, leggiamo insieme i titoli del centro. Munda, pronto il ritorno al castello L'Aquila, ecco il piano per riportare il Museo Nazionale nella sede storica. Nel taglio alto si parla del piano di emergenze, soccorso, la regione potenzia le sedi dei 118, ecco la nuova mappa. Viaggio all'Europarlamento, bistecche sintetiche, i giovani agricoltori dicono no a Bruxelles. E poi dopo i quattro feriti, fine dell'incubo a San Salvo, la lupa catturata dagli esperti dopo l'ennesima aggressione. Discarica, Confagricoltura chiede i danni, rifiuti smaltiti, abusivamente nel Fucino. Il Presidente lesi gli interessi dell'intera categoria. E poi, donati gli organi dell'Abruzzese, caduto dalla Scala, morto a Parma, salverà sei vite. Rispunta la riforma, Bruzzo al voto, legge elettorale rimessa in pista con un atto del Consiglio. E poi, calcio serie D e l'Avezzano riceve la Samb, l'Aquila in campo per il riscatto, sfida in casa contro il Real Monterotondo dopo il K.O.A. Chieti. Ancora l'Aquila, nove martiri, le cerimonie per ricordare i morti del 43 e infine una notizia che riguarda San Benedetto, nuovo sit-in per l'Orsa Amarena in cella, chi uccide gli orsi. Ed ora i titoli del messaggero Abruzzo. Le ultime ore del padrino, si parla del boss Matteo Messina Denaro, sempre in coma, figlia e nipote al capezzale, da oggi verranno interrotti i trattamenti che ancora tengono in vita il super boss. L'Aquila rapina dopo la visita di Piantedosi, Paolo Santese non risponde al GIP. E anche il messaggero Abruzzo riporta la notizia della cattura del lupo, San Salvo. Il lupo morde ancora, subito dopo finisce in trappola l'animale trasferito in un'area inaccessibile ai visitatori. E poi Giulia Nova, ricorso del comune, Paglione impugnato il testamento dell'artista e mecenati. Andiamo a Teramo con questa notizia, svaliggia la cassaforte alla ex compagna, devo pagare un debito con Equitalia, dice. Abruzzesi nel mondo, Diana Martella, quel rapporto speciale con il nonno, lei attrice, lui senatore negli USA originario di Luco dei Marsi, la loro storia riportata dal quotidiano abruzzese rapino. Minacce al sindaco, se ti incontro ti taglio a pezzi. Torniamo nel taglio alto per leggere l'ultima notizia del messaggero Abruzzo. Autostrada, schianto in auto insieme alla squillo, fuga per non farsi identificare. Serie C per il Pescara e il Pineto, una pausa di riflessione, poi dilettanti, l'Aquila contro il Monte Rotondo, caccia al riscatto, Chieti invece a Raiano. Ed ora procediamo con i titoli della stampa nazionale in edicola oggi, leggiamo come sempre quelli del Corriere della Sera. Funerali laici alla Camera per Napolitano, il ricordo e le divisioni dai media ai politici. L'azione, i valori, quando sferzò i partiti in aula tra gli applausi, la palombara, il docente che lo invitò, preparato così elegante, nel 1978 conquistò Yale. E poi Cervetti, gli anni del PC, l'amicizia col compagno Giorgio sulla Transiberiana. L'Aquila, il boss in coma, Massina Denaro, le ultime ore nell'ospedale blindato. E poi Salvini rilancia il condono, sanare le piccole irregolarità edilizie. Le opposizioni dicono che è criminogeno. Il leader leghista contro Fratelli d'Italia sugli affitti brevi, emendamento sugli extra profitti, spunta un altro vincolo. E poi Bergoglio, in Francia, l'Eliseo, non c'è nulla di cui vergognarsi. Il Papa Macron, all'Unione Europea, non cacciate i migranti. Lasciamo il Corriere della Sera. Leggiamo adesso insieme il quotidiano La Repubblica. L'apertura è dedicata all'emergenza. Migranti, Miloni, ammette il flop. Titola oggi La Repubblica, il fronte dei porti. La Premier riconosce il fallimento dei piani. Abbiamo lavorato tantissimo, ma i risultati non sono quelli sperati. Il vice segretario leghista Crippa, con la diplomazia non si ottiene nulla, bisogna tornare ai respingimenti. E poi il Papa a Marsiglia, basta nazionalismi, non c'è invasione. La politica, banche, Forza Italia e Marina Berlusconi fanno ritoccare la tassa e Salvini rilancia il condono. Poi naturalmente in evidenza i funerali laici per Napolitano, Gemma Calabresi, le mani unite. Unite pacificarono me e Lucia Pinelli. Lasciamo anche il quotidiano La Repubblica. Vediamo adesso insieme i titoli del messaggero. Si parla di quota 103. Leggiamo nel dettaglio questa notizia. Sgravi per chi rinuncia via libera all'Inps ai dipendenti che non escono. In busta alla propria quota di contributi, Salvini propone un condono per i piccoli abusi edilizi. Stop alla stretta sugli affitti brevi. Le correzioni del governo all'imposta. Extra, profitti, pace della maggioranza. Tajani, ritiriamo i nostri emendamenti. Scontri ideologici coi valori che non hanno colore politico. E poi arrivano anche le condoglianze di Putin. La politica si ferma per Napolitano. Martedì, funerali di Stato e laici. C'è anche lo sport sul messaggero. Questa mattina, immobile non basta, la Lazio va piano. Solo uno a uno con il Monza all'Olimpico. Il bomber segna con rigore. E poi scene hot rubate nei video del PM. Il sindaco denuncia. Siamo a Santa Marinella. Le immagini del primo cittadino finite agli atti di un processo per corruzione. Proseguiamo la nostra rassegna stampa. Diamo ora uno sguardo ai titoli del tempo. Quei lager li ha inventati il PD. Leggiamo nel dettaglio questa notizia. Si parla di emergenza migranti. Orlando condanna i CPR. Ma dimentica che a istituirli fu lui con il ministro Minniti. Polemica sui 5 mila euro. Ma è la cauzione imposta dalla regolamentazione dell'Unione Europea. Intanto Berlino imita Parigi. E dopo i soldi alle ONG blinda le sue frontiere. E poi si parla di viabilità. Ha fatto il raddoppio di via Tiburtina dopo 19 anni conclusi. Lavori di 7 km sulla strada consolare. Leggiamo quest'ultima notizia che abbiamo trovato anche su Altri Quotidiani. Salvini apre a un mini condono. Il leghista sanare piccole regolarità per sburocratizzare e fare cassa. Sinistra lo sbando. Schlein copia e incolla proposte e idee di Conte. Ed ora i titoli del Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano apre con l'extra profitti alle banche. La tassa è una truffa. Leggiamo nel dettaglio la notizia centrale in evidenza. Oggi avevano scherzato. Doveva portare 3,2 miliardi. Ora nessuno azzarda stime. Trovato l'inganno. Gli istituti non pagano se stanziano una riserva nel proprio patrimonio. Così si illude di fare cassa per la manovra. Salvini vuole il condono numero 15. Stavolta per sanare tutti i piccoli abusi ed ilizi. Andiamo nel taglio alto. Si parla di migranti. Lo sfregio di Macron al Papa. Lo fa aspettare sulla poltrona. E poi orfano ucraino. 16 anni. Ora a Catania. Non voglio tornare a Kiev, dice, per combattere. Un veloce sguardo anche ai titoli di questa mattina della verità. I 5 mila a migrante. Ecco la norma dell'Unione Europea. La Meloni fa autocritica sugli sbarchi. Risultati non sono quelli attesi. Coro di sdegno per la possibilità prevista dal governo di versare una cifra. per evitare la detenzione. Peccato sia esplicitamente indicata dalle direttive europee da 10 anni. Piante e dosi. Non c'entra nulla con i CPR. Questi ultimi non saranno nei centri abitati. Chiesto il rinviaggio a giudizio di mezza famiglia a suma oro. Le indagini puntano i soldi all'estero. E poi anche qui il viaggio a Marsiglia del Papa. Il Papa a Macron. Devi accogliere un'altra predica sulle porte aperte. E poi anche qui il caso di Santa Marinella. Il sindaco Ott ha offerto pure un incarico al marito della sua presunta amante. Non solo i video art nella sede del comune. Tidei ripreso a discutere un progetto potenzialmente inopportuno. Proseguiamo con il manifesto. Facciamola breve. Leggiamo questa notizia. La settimana lavorativa di quattro giorni fa bene alla salute. Vediamo perché. Alla salute dei lavoratori, all'ambiente e alla produttività. In Germania il sindacato dei metalmeccanici la chiede ufficialmente. Mezzomondo si sperimenta già. Ma in Italia, vedi Schlein, guai a parlarne. Bergoglio, i migranti non invadono. A Marsiglia il Papa sferza i governi. Ed ora, le notizie economiche del sole 24 ore. Imprese, mina garanzie sui prestiti. Si parla di credito. Il governo tratta con l'Unione Europea e con le banche la proroga delle garanzie pubbliche. L'alarme per le imprese più default con finanziamenti e tassi attuali di governo. C'è anche l'edilizia in evidenza sul sole 24 ore. Fondo indigenti per un condominio su 10. Salvini rilancia il condono. E poi mega batterie di sabbia. Così Helsinki accelera la transizione energetica. E concludiamo, come sempre, la nostra rassegna stampa con lo sport. Leggiamo nel dettaglio i titoli della gazzetta sportiva. In evidenza, lo vedete, c'è l'Inter a Empoli. Scusate, 12.30 per scappare. Vi spieghiamo dove Pioli ha cambiato il diavolo, come Allegri è crollato e perché Inzaghi può fare il vuoto. Quindi Inter mezzogiorno di fuga. E poi il Verona battuto con fatica. Milan, Leao e basta. Decide il capitano Rafa, ma la batosta del derby non è ancora superata. E poi incredibili svarioni presi, quattro gol, Juve, Papere e Gatti. Leggiamo anche il taglio basso. Il Napoli a Bologna e dura la vita dei campioni. Garzia già non può fallire. I giganti di Toro e Roma, Zapata e Lukaku, Juric e Mu si affidano ai pesi massimi. Bene, e con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Diamo però prima insieme uno sguardo alla programmazione di questa domenica 24. Alle ore 11, viva la musica con Gigione. A seguire ore 12, Punto Verde, Macchia, Valfortore. Poi Agri Sapori, TG News ore 14. Non perdete le 16.15. Slow Tour, Teramo, Il Politico Risvelato. E poi il teatro Cambuascianerie, la prima parte, il TG News delle 19.30. Poi teatro ore 21, Isse, Essa e Uma Lament. E a seguire come sempre ore 23, ultima edizione del nostro telegiornale. Ed è davvero tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.